Andiamo già Aspetta che metto un rapportone Questa è Zot Magari se riuscissimo ad andare la in alto La in alto vedo giù di là Però avendo la possibilità di tornare La depressione è al sud La depressione ce l'ho addosso io quando ti vedo Carlo Poi siamo anche contro vento Guarda che roba Ecco voi la controfigura di Benito Punta Gozzo al 702 757 è la vetta più alta Poi cominciamo a scendere 702 Prendiamo 746 Bisogna deciderlo perché Per fare il percorso che vogliamo fare Bisogna andare fino al monte Quanto è alto quel monte è là? Comunque guarda A fare il percorso intero Vedi il monte Gozzo Vedi la supposamente là C'è il pezzettino che mi ero così Vai ragazzo Ehi uum te vè pepero C'è il pezzo